Dopo che la Commissione europea ha dato il via libera per il riconoscimento della regione Campania quale territorio indenne dalla malattia vescicolare del suino, siamo rimasti l'unica regione d'Europa senza accreditamento. Commenta così il presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, la notizia che restituisce al sistema suinicolo campano competitività e relega la Calabria a continuare ad essere considerata regione canaglia e i suinicoltori calabresi ad essere penalizzati sul piano commerciale, sui costi che devono affrontare per le procedure rigide imposte e l'accesso di burocrazia. In oltre 15 anni i piani straordinari della nostra regione si sono rivelati inefficienti, inutili ed irrazionali, comportando uno sperpero di risorse pubbliche e di fatto ridimensionando il patrimonio suinicolo regionale, compromettendo una delle filiere agroalimentari più importanti del vero made in Calabria, con salumi denominazione di origine protetta, rinominati in tutto il mondo, ha continuato Molinaro. Di fatto si continua a sottovalutare che il comparto suinicolo è radicato nella nostra regione, con una valenza storico-culturale e ambientale economica, riconosciuta e certificata dall'Unione Europea con ben quattro DOP. La condizione di regione non accreditata per la filiera suinicola, di fatto, permette che i salumi ficci che comprano carne suina extra regionale e la trasformano in Calabria possono vendere fuori dai confini regionali falsi salumi made in Calabria e i veri salumi DOP Calabria non possono essere esportati. Occorre accelerare per il riconoscimento, conferma il leader di Coldiretti Calabria, per far ripartire la suinicoltura in Calabria, il cui patrimonio in questi anni è notevolmente diminuito.